Ben trovati a questo nuovo appuntamento con pillole di giardinaggio in 5 minuti. Ringrazio Grazie a tutti per la sua presenza e il nostro Alberto. Ciao, benvenuti. Oggi ci occupiamo di questa meravigliosa pianta che è proprio qui dinanzi a noi e secondo la mitologia che abbiamo cercato un po' sul web sarebbe nata da Orchis che secondo la leggenda e dai suoi resti mortali sarebbe nata questa pianta. Pianta che ha tantissime caratteristiche oltre a essere bellissima. Assolutamente, ce n'è di tantissime forme e colori. Alcune botaniche si trovano in natura anche nelle nostre zone. Ci sono diverse specie di orchidee spontanee ed endemiche addirittura nel nostro territorio etneo. Quindi si possono trovare facendo delle passeggiate nei boschi. Alcune le produciamo noi stessi come questa bletilla striata che si trova in bianco o in fucsia che è un'orchidea botanica. Tantissime appunto le colorazioni ma anche le varietà di orchidee che possiamo trovare in commercio. Tra le piante più regalate, devo dire che alla festa della mamma quasi tutte le mamme ricevono, tra le piante ovviamente che si regalano, un'orchidea. Parliamo un po' delle caratteristiche, esposizione e quali sono ovviamente i segreti. Assolutamente. Le orchidee adorano stare in posti luminosi, quindi le possiamo e vengono infatti spesso acquistate per essere tenute in casa. Alcune varietà possiamo tenerle anche in giardino, come per esempio i cimbidium, che sono delle orchidee particolarmente grandi, si adattano bene in un posto bello fresco del nostro giardino e riescono anche a rifiorire molto facilmente. Una delle cose che spesso risulta un po' più ostiche per chi riceve un'orchidea è farla rifiorire. Cosa bisogna fare quindi per farle rifiorire? Sì, una delle cose più difficili è proprio questa, è la fioritura. Ora, per esempio, io ho in mano una orchidea che è alla fine della sua fioritura, la tua è bella fiorita, quindi ancora te la puoi guidare per un altro po'. Quando gli steli florali saranno completamente spogli, alcuni potrebbero rimanere verdi, mentre altri seccheranno. Quelli secchi li possiamo sicuramente recidere perché non rifioriranno. Quelli che restano verdi, invece, potrebbero regalarci delle altre fioriture. Quello che io faccio è tagliare con la forbice da potare all'altezza del secondo nodo, per esempio, quindi questa gemma qui che possiamo vedere, recidere con la cesoia al di sopra della gemma e aspettare. Grazie alle concimazioni e alle irrigazioni costanti che poi io darò alle mie orchidee, loro potrebbero rifiorire proprio da quello stelo, o altrimenti formarne di nuovi a partire dalla base e quindi rifiorire nuovamente. Io ho in mano un'orchidea bellissima della specie? Questa è una Phalaenopsis. Quanto dura la fioritura di questi magnifici fiori? Queste qui, spesso, quando le troviamo, per esempio, nel fioraio o comunque in vivaio, le troviamo ancora in bocciolo addirittura. E la fioritura della fase di bocciolo a questa fase, ora la tua è completamente aperta, quindi ha aperto tutti i boccioli, dura all'incirca un mesetto. Poi dopo, ovviamente, tornerà solo lo stelo? Dopo troveremo, come detto, solo gli steli. Quante volte può rifiorire un'orchidea? Questo qui assolutamente dipende dalla pianta, però tendenzialmente all'infinito finché vive. Quindi devo dire che è una pianta che può generare sempre nuovi colori? Nuovi fiori sicuramente. Ci sono altre malattie o caratteristiche che caratterizzano queste piante? Una cosa molto importante sono le annaffiature e le concimazioni per garantirci la rifioritura. Quindi io consiglio di solito di fare un'annaffiatura ogni 10 giorni, quindi diciamo 3 al mese orientativamente, e una concimazione al mese con del concimo apposito per l'orchidea. Inoltre una cura abbastanza importante per questi tipi di orchidea come le falenopsis è il rinvaso. Ogni tanto, quando vediamo che la corteccia si è sgretolata completamente, diventata praticamente terriccio, è il momento di rinvasarle. Ultima domanda perché siamo in chiusura ovviamente di appuntamento, come annaffiarla? Cioè va messa l'acqua direttamente in vaso, nel sottovaso? Allora, sicuramente non bisogna lasciare del ristagno idrico all'interno del sottovaso, quindi garantirci che si asciughi completamente. Possiamo o farle una bella doccia, quindi con un annaffiatoio o con la doccia stessa, oppure metterle in ammollo e poi farle sgrondare bene in modo da fargli rimuovere tutta l'acqua in eccesso. Per questo appuntamento con la nostra rubrica è tutto, grazie al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.